Benvenuti al telegiornale di Diregioni.it Come ogni giorno vi chiediamo di iscriverci o mandarci i vostri contributi al nostro indirizzo e-mail redazione at diregioni.it Dalle nuove serie di Lost, I Soprano e Grey's Anatomy all'ultimo padrino di Marco Risi con Michele Placido nelle vesti del capo mafioso Bernardo Provenzano Questa è alcuna delle grandi anteprime mondiali in programma alla prima edizione del Roma Fiction Fest Appuntamento dal 2 al 7 luglio alla Casa del Cinema e all'Auditorium della Conciliazione Per l'evento la regione Lazio ha speso 4 milioni e 500 mila euro L'ultima Barbie risponde al cellulare, ascolta musica dall'iPod o da un qualsiasi altro lettore mp3 e canta in playback muovendo le labbra a ritmo di musica e tenendo in mano un microfono È la nuova versione della bambola lanciata da Mattel e si chiama Chat Divas Barbie E se la versione bionda vi ricorda troppo Paris Hilton potete scegliere Teresa, la Chat Divas Barbie Mora Avete la coscienza pulita? Siete sicuri di non aver mai fatto torto a nessuno? Attenzione perché basta poco per essere dannati da amici o conoscenti e finire sull'Inferno Online Un sito in flash che ha lo scopo di mettere al muro un po' tutti Il più gettonato sembra George W. Bush per aver bombardato l'Iraq A fargli compagnia anche Adolf Hitler per l'eccidio di 6 milioni di persone Più spiritosi i toni di chi condanna il diavolo stesso o l'iTunes per aver cancellato la playlist Beyoncé è stata imputata per aver inciso nuovamente il brano Kissing You A trascinare davanti ai giudici la famosa cantante è stata una sua collega, cuatrice del brano che ha chiesto 150.000 dollari di risarcimento La canzone della discordia era la colonna sonora del film Romeo e Juliet Questa era l'ultima notizia Vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima edizione Se volete diventare reporter per un giorno o per una vita, con noi potete farlo Basta inviare una pillola video di 3 minuti realizzata come preferite al nostro indirizzo email redazione.at.diregioni.it Il regolamento completo lo trovate sul nostro sito www.diregioni.it Buona giornata Grazie a tutti